buongiorno ed eccoci ancora qua a presentarvi un altro dei nostri saggi online come sapete la scuola di musica continua la musica non si ferma continuiamo con le lezioni online per tutti gli strumenti e vista il grandissimo successo del primo saggio online ci sono avvenute molte richieste che ci chiedevano di riproporre la stessa esperienza allora grazie al maestro antonio d'alessandro che si sta occupando delle organizzazioni di questi saggi oggi abbiamo da presentarvi un nuovo saggio di chitarristi è esclusivamente un saggio di chitarra appunto sono gli allievi proprio del maestro d'alessandro e so che sono molto tesi li ho visti nelle quinte sono molto agitate per questa per questa uscita però sono sicuro che faranno un successone naturalmente sono tutti i video che hanno registrato nelle loro case quindi secondo il principio di stiamo a casa in questo periodo di coronavirus bene vado a presentarveli allora avremo nella sedine nell'ordine luca collini un applauso possiamo farlo tutti da casa voi che state ascoltando matteo sartori carlo cervini mauro taverna e paolo laggi quindi signori e signori ladies and gentlemen abbiamo i nostri super chitarristi per voi in questo secondo saggio della scuola di musica del garda buon ascolto e quindi Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.